Si torna a parlare in queste ore della ESCAL e del cementificio proposto dalla ditta pugliese a ridosso della riserva di Punta d'Erci a Vasto. Si è infatti tenuta ieri dinanzi al Consiglio di Stato sezione 4 in modalità telematica l'udienza di discussione della sospensiva della sentenza 203 del 2020 pronunciata dal Tar per l'Abruzzo che aveva accolto il ricorso proposto da WWF Lega Ambiente contro il parere favorevole di valutazione di incidenza ambientale che il comune di Vasto aveva rilasciato in favore del progetto. Contro quella bocciatura la ESCAL ha presentato ricorso al Consiglio di Stato di fronte al quale WWF Lega Ambiente si sono costituiti nel giudizio con l'Avvocato Francesco Paolo Febbo. Senza dubbio, aspettevamo l'appello seppure è stato proposto a circa sette mesi dalla sentenza e proprio questo è stato il motivo che abbiamo adotto per contestare la sospensiva che sembrerebbe essere stato anche posto a fondamento della decisione di reiezione da parte del Consiglio di Stato sull'istanza proposta da ESCAL. Effettivamente questa appendice al Consiglio di Stato rivela ancora una volta quali sono gli appetiti su questa zona e che anche parte dell'imprenditoria locale sia interessata allo sfruttamento di questa zona e la politica sembrerebbe essere disattenta. quindi rimaniamo noi come baluardo rispetto a questo tentativo di danneggiamento dell'ambiente e dell'assetto naturalistico. Ci troviamo di fronte a una situazione emblematica. La lotta alla cementificazione sulla Corsa dei Trabocchi passa per la difesa del territorio ostacolando quest'opera che ne rappresenta proprio il baluardo. Quindi su questo va fatto un passo in avanti sia della politica ma anche degli operatori economici interessati. Stiamo scrivendo la Next Generation Way ragionando su come mettere in campo le politiche di transizione ecologica e ripartire per il futuro non solo di questo territorio ma dell'intero paese e noi stiamo ancora rincorrendo la zavorra. Ci aspettiamo che il Consiglio di Stato bocci definitivamente questo progetto ma altrettanto c'è bisogno di un'ulteriore risposta della comunità tutta di fronte a questa emergenza affinché la stessa politica riesca finalmente a mettere in campo quelle scelte che lo stesso Presidente Draghi in questo momento ci sta chiedendo, ovvero quello di andare verso una società ambientalista, europeista e atlantista.